I manifesti sono stati protagonisti assoluti del lungo 68, non un semplice mezzo di comunicazione ma un'idea della politica, uno stile di vita, una visione del mondo. Questo leggiamo prima di aprire questo libro che è 68 i muri ribelli, un libro curato dall'archivio dei movimenti, un libro che è nato all'interno di un progetto finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Oggi io sono Paolo Giannone, sono direttore della Biblioteca Universitaria di Genova, ne parliamo con chi ha realizzato e curato questo libro, quindi con il presidio dell'organizzazione di questo evento, quindi con Francesca Dagnino e con Paola De Ferrati e con Roberto Rossini, ne parliamo con il professore Edoardo Novelli dell'Università di Roma 3 e ne parliamo anche con la dottoressa Laura Della Piana, che è la responsabile del settore tutela di questa biblioteca. Per me è un vero piacere sviluppare eventi funzionali, a far conoscere una realtà che è fatta di storia pratica, di storia vissuta attraverso i muri e letta attraverso i muri, quindi lascio molto volentieri la parola a chi ha potuto, a chi ha realizzato questa iniziativa. Bene, prima di tutto grazie. Grazie a Paolo Giannone di averci ospitato nella prestigiosa e bellissima Biblioteca Universitaria di Genova. Grazie a tutti i presenti e grazie in particolare a Edoardo Novelli, del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma 3, che oltre ad avere questa funzione in università ha numerose pubblicazioni che centrano proprio il loro interesse, si focalizzano sui manifesti, sull'espressione in generale iconica, visiva, eccetera, della politica, dei manifesti della politica. Io ho il piacere, l'onere e l'onore, come si diceva una volta, di essere presidente dell'Associazione dei Movimenti, vi dico due parole su questa associazione. È nata ormai quasi dodici anni fa, undici anni fa, da un gruppetto di ex sessantottini che volevano preservare e comunicare la memoria del 68. Non fare gli storici, ma fare i conservatori e divulgatori della memoria. Quindi abbiamo in tutti questi anni raccolto più di 100 fondi di altri tanti donatori, che è una cosa abbastanza notevole. Fino all'anno scorso siamo vissuti senza nessun finanziamento pubblico. Poi dall'anno scorso abbiamo avuto qualche finanziamento, piccoli, ma che ci sono stati estremamente utili per realizzare delle cose. Oltre a questo lavoro di, come dire, di preservazione, il lavoro prettamente archivistico di cui si occupa in particolare Paola De Ferrari, abbiamo una serie di altre attività, perché questo archivio vogliamo che sia vivo. Dato che sono ancora, non tutti, ma in gran parte vivi i donatori, quelli che hanno, come dire, hanno fatto quella piccola pezzetto di storia, hanno preservato quel piccolo pezzetto di memoria, tentiamo sempre di, come dire, rendere ancora fruibile questa cosa. e organizzando degli eventi che hanno come protagonisti l'archivio stesso, perché i sette, con questi sette libri che abbiamo prodotto, da quando siamo nati ad adesso, abbiamo, ci siamo anche fatti inventati di essere una casa editrice, la casa editrice dell'archivio dei movimenti, e abbiamo fatto queste pubblicazioni che hanno utilizzato i materiali d'archivio. Quindi è un archivio che si apre non solo agli storici, agli studenti, ai ricercatori che vengono a consultare il nostro materiale, ma siamo anche noi che ci apriamo e andiamo a trovare le persone, il pubblico in generale, però molto spesso anche gli studenti, eccetera, attraverso varie iniziative, presentazione di libri, edizione di libri nostri, video, abbiamo prodotto tre video, sempre sul 68, il movimento femminista, abbiamo organizzato delle mostre, una bellissima nel 2017 a Palazzo Ducale, altre minori, ma altrettanto frequentate e viste e apprezzate. Insomma, siamo una piccola associazione che si è guadagnata però un po' di, una parola brutta, visibilità, ma insomma un po' di questa roba qua nel panorama culturale di Genova. Di questo libro non parlo perché è l'oggetto della nostra discussione e vi lascio quindi a Edoardo Novelli, a Roberto Russini il compito di poi di parlarne in maniera più approfondita e allora vado a presentare io gli altri intervenienti che sono appunto di Edoardo Novelli, ho già detto, che è professore all'Università di Roma 3, Roberto Rossini è un artista prima di tutto, è un grafico di grande valore, è un professore all'Accademia sia a Genova che a Milano, e nostro socio amico e infaticabile ideatore di immagini e di loghi e di motti e insomma una presenza veramente preziosa nell'archivio. Laura Della Piana è una funzionaria della biblioteca universitaria, lei si occupa di tutela, del dipartimento di tutela, ma ha funzioni di restauratrice, che è una cosa molto, anche questa molto preziosa, restauratrice di carta, quindi anche noi dovremmo avere ogni tanto dei restauratori di carta perché spesso i nostri manifesti sono, i volantini e i documenti sono abbastanza mal presi. Paola De Ferrari è l'anima dell'archivio, è insieme con me e altre cinque persone, sei persone, una delle fondatrici dell'Associazione per un archivio dei movimenti e come ho detto prima prevalentemente ma non esclusivamente si occupa dell'archivio ed è grazie alla sua professionalità che chiunque voglia visitare il nostro archivio si troverà di fronte a un posto ben organizzato, con ordinati archivisticamente appunto i nostri documenti. io non ho altro da dire e quindi passerei la parola al professor Novelli. Grazie. Grazie, grazie innanzitutto alla Biblioteca Universitaria di Genova per questa iniziativa, grazie all'archivio dei movimenti sia per questo invito, per questa iniziativa, soprattutto per l'attività che ha svolto, per il libro, per l'attività prima di sistematizzazione, di archiviazione di questi materiali che insomma è molto difficile che vengano conservati e sono pochi luoghi in cui vengono conservati, li rendono poco accessibili, raramente vengono pubblicati, quindi insomma tutta una serie di attività estremamente incomiabili o a cui quantomeno apprezzo molto. Il mio compito mi è stato chiesto di fare un'introduzione, un discorso diciamo sui manifesti e non sul libro, quindi se ho già la seconda persona che non parlerà di questo libro il rischio forse che poi non ne parlerà nessuno, non lo so, però fare un discorso generale sul manifesto in Italia di cui l'archivio documenta soprattutto appunto la fase dei movimenti, diciamo gli anni 70 prevalentemente. Allora nel cercare di fare un po' questo percorso che è comunque un percorso abbastanza anche complesso perché insomma il manifesto è tante cose, molti autori, molti soggetti, molte stagioni, molte istanze, insomma nel cercare di vivere un po' queste fasi ho anche preso qualche immagine, visto che parliamo di immagini, studiamo le immagini anche per avere delle immagini per così puntualizzare il nostro percorso. Volevo solo iniziare con una citazione anch'io, come ha fatto Giannone, che è riferito a un articolo del Corriere della Sera del 6 maggio del 53. Siamo in campagna elettorale, ovviamente la famosa campagna elettorale poi quella della legge truffa, i manifesti con i forchettoni, con i truffatori, insomma. L'articolo dice a Bologna la notte di Pasqua una colonna di 16 autocarri carica di decine di migliaia di manifesti, di centinaia e centinaia di enormi cartelloni, di fusti e casse di colla sintetica, si fermò in Viale Marconi. Il deputato comunista Tarozzi fu veduto in partire disposizione ai capi di 500 e più attacchini e carpentieri volontari, che subito dopo il tocco si sparsero per le vie centrali e periferiche della città. Il mattino successivo i bolognesi rimasero sbalorditi. Le vie indipendenza Bassi, Rizzoli e molte altre furono ritrovate tappezzate di manifesti, i portici del centro erano scomparsi sotto interminabili festoni di cartelli. Si calcola che in tre giorni e tre notti gli attacchini comunisti abbiano appiccicato qualcosa come 160.000 manifesti. Ecco, questa che sembra una cosa di una operazione militare con Tarozzi che partisce con i fusti di colla sintetica eccetera, ci dà bene l'idea di che cosa è stato il manifesto nella sua grande stagione. La stagione del manifesto è la seconda metà del novecento e soprattutto gli anni cinquanta è quella, la stagione in cui il manifesto è il grande strumento nel momento in cui si torna alla partecipazione democratica, alle elezioni, al coinvolgimento nella vita politica. I due strumenti sono la voce che occupa però momentaneamente di spazi e il manifesto che li occupa invece da un punto di vista anche colorato e li occupa in maniera diciamo non fissa ma comunque un po' più temporanea. E improvvisamente anche gli spazi urbani che erano stati per carità già ben decorati non solo con i manifesti ma anche con l'architettura, dal fascismo, però diventano plurali, arrivano diversi colori. Le piazze si colorano a seconda della giornata del comizio, di quanti adepti di tarocchi sono passati ad appiccicare di colori differenti. Ecco, l'arrivo del manifesto però non è così non è così immediato anche perché c'erano dei problemi quando si arriva nella diciamo al 46 il famose, prima ci sono le elezioni amministrative, una serie di tornate di elezioni amministrative, poi c'è il famoso doppio appuntamento, referendum e assemblea costituente, ci sono dei problemi. Primo è un problema di tipo organizzativo, materiale, manca la, c'è ancora la distribuzione in Italia, i trasporti sono difficili, non c'è carta, non ci sono materiali eccetera. E poi c'è anche una questione di linguaggi, non da poco, cioè di come affermare e oltretutto il concetto di campagna elettorale non è ancora assolutamente chiaro, cioè si fa la campagna elettorale, ci sono le elezioni ma non c'è ancora l'idea della campagna elettorale e quindi prevalentemente, vediamo se ci riusciamo a fare questa cosa, spero che vi inviate, principalmente i manifesti sono, non sono manifesti, la campagna elettorale del 46 è fatta sostanzialmente con scritte, vedete o è troppo grande, questo temo, vediamo un attimo, sì è questa, è fatta prevalentemente da scritte, non ci sono ancora i manifesti, ce ne sono pochi, sono disorganizzati, non sono in serie, non sono coordinati a livello centralmente, il manifesto quando viene fatto è fatto dalle realtà locali. Però appunto c'è anche, non solo un problema materiale, c'è un problema di linguaggio, c'è nel momento in cui utilizzo il manifesto, che ci faccio con il manifesto, che lingua parlo con la lingua dei manifesti, c'è un problema proprio vero di ridefinizione dei codici e infatti inizia anche una contrapposizione, una ricerca di codici diversi, questo è un famosissimo manifesto di Dudovic che ci racconta appunto, votate la democrazia cristiana che guarda ovviamente al nuovo grande protagonista della vita democratica italiana, cioè le donne, c'è appena stata l'apertura del voto femminile, il suffraggio universale e la democrazia cristiana guarda a caso si rivolge a un grandissimo, a uno dei padri del cartellonismo pubblicitario, però utilizzando, che quindi ci dà l'idea che aveva una certa attenzione, che certi linguaggi, certi codici andavano utilizzati, c'era uno che chiaramente sapeva parlare con le immagini alla massa agli italiani, ma Dudovic era clamorosamente anche uno dei famosi, è famoso per avere disegnato le donne di Dudovic, le donne della bella epoca, era quasi diventato un modo di dire da un punto di vista stilistico ed erano tutte donne molto suadenti, borghesi, molto affusolate, molto anche seduttive. Improvvisamente aveva caratterizzato gli anni venti, prevalentemente trenta. Con l'arrivo del fascismo, il fascismo aveva imposto anche una riconfigurazione estetica e visiva della donna, che era diventata una donna molto più mascolina, molto più austera, molto meno seducente, una donna che tornava nell'ambito della famiglia, usciva dai salotti e dalla bella vita. E guarda caso quando la democrazia cristiana nel 1946 guarda a Dudovic, utilizza sì il grande illustratore della pubblicità, ma in questa nuova stagione. Cioè si rifà i codici che il fascismo aveva reso assolutamente popolari e estremamente diffusi. E quanto andare a riprendere i vecchi codici o utilizzarne di nuovi diventano degli elementi forti di quella primissima stagione. Anche il partito comunista, che anche lui all'inizio, vedete questo manifesto del secondo congresso provinciale della Federazione Comunista Modenese, è un manifesto che ha una chiara eredità dei codici classici, del fascismo, l'incudine, in parte il lavoro, però insomma è estremamente classico, le colonne, questa architettura, il libro, la spiga, i soldi, cioè un'impostazione che ci fa capire che anche lui lavorava su questo. Perché una parte, soprattutto, che stava alla Federazione Comunista del Partito Comunista, dove c'erano velonesi, dove c'erano Steiner, invece iniziavano a utilizzare dei linguaggi completamente diversi, dei linguaggi che anche nell'iconografia si volevano essere portatori di un significato, di un'immagine diversa, si volevano staccare da quello che era appunto la lingua che aveva sempre utilizzato il fascismo, estremamente popolare da questo punto di vista, estremamente più comunicativa, se vogliamo, ma anche estremamente più connotata. E infatti noi troviamo questo manifesto, che è un manifesto chiaramente che si rifà alle avanguardie russe, al Bauhaus, con un linguaggio che utilizza l'immagine fotografica e non il disegno, perché è più vero. Quindi ci fa capire che inizia anche una battaglia di immagini, di forme. Ma la vera grande campagna elettorale, che tutti sappiamo, è la battaglia che anticipa il 18 aprile del 48, dove entrano in ballo, entrano in campo i comitati civici di Luigi Detta, pagati dal Vaticano, da più dodici, che sostanzialmente danno una svolta nella campagna elettorale, danno una svolta sia nei temi, sia nell'iconografia. Loro ovviamente non possono intervenire nella campagna elettorale direttamente, perché c'è il concordato. E allora trovano due avversari, non sono a favore di, ma sono contro. Sono contro il comunismo e contro l'astenzionismo. E nel frattempo dicono, votate per quello che volete, ma un partito che sia democratico e cristiano. Poi l'elettore avrebbe saputo diciamo dedurre che cosa fare. La cosa interessante è che costruiscono improvvisamente il manifesto si popola, diventa fiabesco. Il linguaggio che utilizzano è il linguaggio della fiaba. I manifesti dei comitati civici, che sono fortissimi, violentissimi, d'impatto, sei parole praticamente, contro i manifesti invece che faceva il fronte democratico popolare, che erano scritti, erano lunghi, avevano moltissimo, si appellavano alla ragione, alla spiegazione. Qui il manifesto è diretto. Ci sono teschi, ci sono orchi, ci sono mostri, ci sono animali, c'è anche tutta una serie di un universo fiabesco. C'è l'asino, c'è il coniglio che è pavido, c'è la volpe che furpa, c'è il lupo che è cattivo. Cioè è un codice estremamente facile con cui parlare agli italiani, estremamente diretto, che tra l'altro fa anche appello, vedete, non tanto a categorie politiche, ma a categorie estremamente. Anche qui tre parole, io non voto, è molto chiaro, non c'era bisogno neanche di sapere tanto leggere, era molto immediato, ma fa appello anche a categorie quasi pre-politiche. C'è l'autostima, la considerazione di se stesso. Cioè spostava completamente il piano. Ovviamente i codici, si gioca su codici contro codici, si gioca anche su citazioni esplicite e su citazioni non esplicite. Questo era il famoso manifesto, togliato a Roma per la grande festa, tutti a salutarlo e guarda caso la fotografia, che sembra una fotografia molto spontanea, una fotografia informale, una fotografia quasi scattata così senza posa e scopriamo una fotografia estremamente posata, estremamente studiata, perché riprendeva, diciamo, un formato, un modello che era già stato utilizzato da Lenin, che sarà utilizzato poi da Stalin e da molto altri, cioè si rifà, un modello che chiaramente parlava ai militanti comunisti, più di stretta osservanza, diceva ulteriormente qualcosa, richiamava un'appartenenza che a molti non richiamava, però ci dimostra come il linguaggio dei manifesti può operare in varie maniere. Poi ci sono delle stagioni diverse. Negli anni 60 arriva la stagione in cui vedete due manifesti quasi uguali, uno democristiano e uno repubblicano, la DC merita fiducia, nel PRI può avere fiducia. Si passa dai mostri, dagli animali, dalla paura, dal terrore, dalla persuasione, giocare sugli elementi forti della paura. Turi Vasile, che era responsabile dei comitati civici, diceva che il manifesto deve dare un cazzotto nello stomaco alla persona. Oggi si parla tanto della comunicazione alla pancia, i social, queste cose qua. Era già ben chiaro, dovevi suscitare una reazione. Qui siamo in una fase successiva, il clima politico è cambiato, è arrivato un boom economico, è arrivato uno stile di vita diverso, si stanno stemperando anche certe tensioni, sebbene poi il clima rimanga sempre comunista, e si inizia però a giocare più sulla seduzione, non più sulla paura e sullo spavento. E poi si cerca anche di rendere più astratti, cioè il manifesto appunto diventa frecce, diventa segni, diventa perde, appunto l'iconografia politica più forte, i personaggi politici più forti. Si attinge alla pubblicità per certi versi, in maniera ironica, il famoso Casce Fiat, che diventa questo manifesto dei social, dei liberali contro il centro-sinistra di Fanfani, che diciamo inaugura la sua stagione nel 1963, con citazioni dirette, no, del mondo della pubblicità. Ovviamente il linguaggio pubblicitario inizia a essere sempre più diffuso, sempre più popolare, quindi la politica inizia a utilizzarlo, perdendo per certi versi una sua connotazione, no, meno termini e simboli politici, ma più i tempi pubblicitari. L'esempio di tutto questo manifesto, forse questo, che è uno dei più classici, nel 1963 la democrazia cristiana fa questo manifesto che ha due ascendenze. Una è un'ascendenza, diciamo, di contenuto, perché deriva dal primo consulente americano che viene in Italia a lavorare per un partito politico, che era Ernest Dixter, e scoprirà uno scandalo enorme, il Paese Sera farà pagine e pagine, pubblicherà il rapporto segreto, riuscirà ad avere il rapporto, non si sa come, in cui Dixter spiegava, lui era un motivazionalista che faceva ricerche di mercato, che spiegava alla DC cosa doveva fare per cercare di essere più, diciamo, efficace. E quindi il primo consiglio disse, ma la democrazia cristiana ha vent'anni nel 43, di fatto, è percepita un po' come una vecchia bolsa matrona, forse si dovrebbe cercare un po' di ravvivarla, ringiovanitela, di fatto. Quindi giocando sull'aspetto seduttivo, quindi sugli aspetti emotivi, non tanto sugli aspetti della paura profondi. Questo è il manifesto che viene fuori, l'altro ascendente è chiaramente il manifesto che vedete a fianco, che era il manifesto che era stato fatto per De Gaulle, per il referendum francese, quindi è esattamente lo stesso, più o meno. Lì è la Marianna, qui non è la Marianna e non è neanche l'Italia turista, ma una giovane sposa, però se noi togliamo la DC a vent'anni sotto e ci mettiamo sotto Pepsodent, va benissimo, no? Sotto il teschio colbacco e la stella rossa, era difficile mettere sotto un altro messaggio, era un messaggio assolutamente inequivocabile. Ora il messaggio visivo inizia a diventare molto più neutro e la politica inizia a utilizzarlo. Poi inizia la stagione, diciamo la stagione che appunto l'archivio del movimento di Genova documenta così bene, questo è il famoso manifesto dell'Unione Guagliardica Italiana, che un po' inizia la stagione dei movimenti extrapartitici, extraparlamentari, dei movimento studentesco, questo è un manifesto famosissimo che ha anche lui una storia, poi c'è questo, che è quello, c'è sia la versione rossa, c'è la versione nera, che è quello di Palazzo Campana, che ovviamente è presente nell'archivio ed è sostanzialmente un manifesto che fa capire che inizia una stagione anche di linguaggio grafico diverso. Si attinge soprattutto tutta la stagione degli anni manifesti, i principali, più belli, più interessanti degli anni 70, attingono all'esperienza francese, buona parte che a sua volta aveva attinto a esperienze anche tradizioni dei manifesti che vanno da quelli cubani e quelli di altre tradizioni e anche qui di nuovo il segno inizia ad essere connotato, inizia ad avere un linguaggio, già semplicemente per una questione tecnica che si lavora con la serigrafia, si lavora con i manifesti in maniera con colori molto netti, non ci sono i mezzi colori, ci sono pieni e vuoti che da un certo punto di vista rappresentano anche bene la nettezza del messaggio, la nettezza della comunicazione. Se tutta una stagione che si chiama appunto dalla Francia arriva e inizia a influenzare lotta continua, potere operaio, vanguardio operaio, soccorso rosso, tutti i manifesti poi fatti a livello spontaneo, a livello nazionale, attingendo anche ovviamente ad alcune esperienze poi artistiche. Voi citate ovviamente nel catalogo tutta una serie di appunto da Crepax a Chiappori a Gal che hanno lavorato ovviamente grafici e anche illustratori, artisti che hanno lavorato in questa stagione, ma appunto come abbiamo visto con Dudovic e molti altri, Beltrame, ci sarà Iacovitti, insomma la quantità di personalità dopo, ma la quantità di pubblicitari grafici che vengono ovviamente, Michele Spera per il Partito Repubblicano, che vengono poi diciamo coinvolti nel cercare di dare, cambiare, ridefinire. Michele Spera è il primo che parla di un'immagine coordinata del partito, è il primo che fa un discorso di questo tipo e quindi lavora non tanto sul manifesto semplicemente di campagna elettorale che ovviamente si è evoluto, si è iniziato rispetto alle primissime stagioni a parlare anche durante la campagna elettorale, il manifesto inizia a essere un qualcosa di seriale, prendendo esattamente il modello della comunicazione pubblicitaria. Faccio la campagna nel 46, nel 48, ancora nel 53, non c'è l'idea che ogni campagna aveva diciamo uno slogan di base che declinava, uno, due, che declinava e accompagnava tutta la campagna e poi si modificava diciamo l'impianto grafico visivo, ma un elemento continuativo esattamente come le pubblicità per certi versi commerciali. Quindi abbiamo questa stagione che appunto nell'archivio è molto documentata, molto ricca, forse anche la più creativa per certi versi, anche quella che appunto si muove appunto attingendo da varie esperienze ma senza particolari vincoli e quindi abbiamo le cose più appunto, si va da Crepax a cose fatte poi c'è ovviamente Gasparazzo, ce ne sono molti. Il problema è che poi il manifesto volge velocemente anch'io sto volgendo al termine del mio tempo, ci sono varie stagioni, ovviamente stanno procedendo per grandi salti, fine della stagione degli anni 70, negli anni 80, in parte negli anni 90 è qui che la contaminazione pubblicitaria diventa chiara, diventa fortissima. Questi sono due manifesti diversi, uno dell'84 del Partito Comunista, potrei dire forse l'unico manifesto di nudo politico, un manifesto politico di uso del nudo del bambino così esplicito e poi questo invece abbiamo quello dell'87 che è Forza Italia ma della democrazia cristiana fai vincere le cose che contano dove qui c'è già un'operazione chiaramente di nuovo di marketing dietro, non c'è il fatto ad agenzie pubblicitarie e soprattutto quest'ultimo ci sono tre o quattro soggetti che devono rappresentare le varie categorie di elettori, le varie tipologie, non si parla più ai lavoratori, operai, impiegati, ma c'è appunto la mamma con la bambina, c'è il papà che lavora, c'è il pensionato anziano, ma raccontate un po' esattamente un po' la famiglia del mulino bianco, d'altronde questo manifesto e questa campagna la fa la RSCG che è esattamente la campagna di l'agenzia in Italia diretta da Mignani che è quello che guarda caso fa in questi anni la mulino bianco e fa la Milano da bere che diventa l'emblema del partito socialista, del traxismo e invece in Francia l'affiliata è quella di Jacques Segelat che è quello che esattamente in questi anni sta ridigenerando l'immagine di Mitterrand e lo fa molto, lo porta a vincere le elezioni col famoso slogan una forza tranquilla, con questo simoro che diventa di questo famoso. Quindi diciamo qui il manifesto perde anche molta, ci sono sempre grafici, inizia a essere soprattutto da appaltata all'esterno, tutta la prima fase del manifesto in Italia è un manifesto molto spesso che comunque soprattutto in altre in alcune aree comuniste eccetera era comunque ancora controllato dai partiti, sì c'erano i vari Steiner, c'erano i vari Veronesi, c'erano per carità Dudovic ma c'era sempre una forte, poi i partiti avevano gli uffici grafici interni, i partiti socialisti che ridisegnano completamente il restanio del PSI con manifesti eccetera, è il grafico interno che lo fa, Spera lavora unitamente per il partito repubblicano da un punto di vista politico, quindi rimangono queste forte Bruno Magno che fa l'ultima stagione del PC e la prima stagione del PDS e all'interno del partito, quindi adesso qui iniziamo però a avere le agenzie, ci si affide alle agenzie pubblicitarie e in questa velocissima carrellata sono già oltre che cosa succede? Succede che il manifesto perde un po' la sua funzione perché cambia la politica, cambia la funzione della politica, è una politica che deve comunicare sempre meno ideologia, deve comunicare sempre, c'è una perdita delle grandi appartenenze, quindi bisogna iniziare ad utilizzare dei linguaggi neutrali, come questo grazie anche alla televisione, emerge il leader, il leader inizia a essere il grande protagonista del manifesto e qui vediamo un leader, poi vediamo un altro leader, due leader che hanno assolutamente tra l'altro impressionante questa idea che il leader, la vicinanza ideologica si trasporta, l'affinità ideologica si trasporta in una sorta di vicinanza visiva, cioè un leader che c'è sempre più vicino, che c'è sempre più addosso, sempre più intimo, sempre più personale, sempre sorridente, craxi sorridente, almirante insomma che sappiamo non era sicuramente una persona da una biografia diciamo solare sorridente, che però ci guarda con quest'aria un po' quasi ammiccante, ma non è l'unico, vediamo che diventa proprio uno stilema che si diffonde, che esonda, almeno prima avevi Dudovic che ci raccontava la donna in un modo e avevi forse appunto Veronesi che la raccontava, te la faceva vedere con la tuta da lavoro e non più da madre, ma donna, perché quello di Dudovic sembrava anche un critico sacro, sfonda, sfonda dappertutto, sfonda anche fino al 2007, vediamo che l'importante è che il leader che ti guardi, ti sorrida, ti sia vicino. Cosa succede in tutto ciò? Io ho finito tempo e presentazione, cosa succede? Succede che oltretutto il manifesto, oltre ad avere perso per certi versi le sue forti connotazioni perché è meno contenuto politico da trasmettere, trasmetti la persona, la stagione dei sindaci che parte nel 93 e ovviamente inizia a essere voti la persona, voti lui, voti, c'è una personalizzazione, il voto diventa un elemento e quindi cosa costruisci? Intorno il manifesto devi rappresentare la figura, devi tratteggiare e sono sostanzialmente dei ritratti. Il salto successivo è un salto che addirittura non solo non vede il manifesto trasformato perché appunto è una raccolta di facce sostanzialmente, ma sparisce anche il manifesto. Noi abbiamo visto nell'ultima campagna elettorale, quella del 2018, i famosi tabelloni erano completamente vuoti gli spazi per la fissione. Perché? E da un lato perché c'era stata una legge elettorale che sicuramente aveva complicato fare la propaganda dei singoli candidati nei collegi perché aveva ampliato i collegi e soprattutto perché non aveva messo il listino bloccato, quindi un candidato non ha più nessun interesse a fare una campagna elettorale perché non può incidere personalmente. Ma poi soprattutto per altri due motivi, uno erano stati tagliati i fondi, tagliati i fondi della politica, quindi i partiti non avevano più soldi e poi perché è arrivato qualcosa che si chiama la rete. La rete permette di comunicare gratis, velocemente, immediatamente. Il manifesto, come una campagna elettorale, avevi bisogno di pianificarla, diciamo con alcune settimane di anticipo, diciamo così, poi alcune... però avevi quindi dovevi impostarla. Adesso la rete ti permette praticamente di una campagna elettorale molto più tattica, molto più immediata, li crei immediatamente, li posti, li diffondi, chiedi light. Poi certo anche lì ci sarebbe un discorso sui contenuti perché magari si posta l'uomo che si mangia il cappuccino e dice che facciamo, che faccio amici lo mangio, sappiamo benissimo come sono, ma anche questo sta riportando una definizione dei linguaggi grafici, anche una ridefinizione dell'iconografia del leader, che se nella stagione che abbiamo visto l'ultima, con tutte queste faccione, il leader si era un po' costruito un po' come una star, non ho messo immagini di candidate donne, ma se partiamo dalla Pelonia, la Moratti e molto altri, c'è veramente alcuni stilemi dell'attore, dell'attrice, della persona di moda eccetera, adesso nel web c'è una ridefinizione completamente quasi a detrimente nei confronti della figura del leader, che è un leader, la rappresentazione del leader funziona se un leader come noi, vicino a noi, talmente vicino a noi che deve avere gli stessi difetti fisici, non deve essere perfetto, non deve essere... quindi c'è anche dal punto di vista del linguaggio visivo, di nuovo, non più nei manifesti, ma chiamiamola nelle webcard, che sono un po' la loro evoluzione, un discorso di come l'immagine continua a parlare linguaggi legati a visioni della politica e della società differenti. Ho sforato, chiedo scusa. Direi che non solo non ha sforato, ma diciamo che quello che è stato evocato da solo merita, che crea ulteriore stimolo e curiosità. Quindi sono argomenti vivi, per cui la ringrazio. Devo dire che mentre parlava e scorrevano le immagini e parallelo pensavo anche le immagini curate e altre anche illustrate, spiegate poi nel bel libro Muri ribelli da Roberto Rossini, c'era tutta una serie di evocazioni che meritano a questo punto, che si collegano molto immediatamente alle osservazioni che sono state riportate. Per cui passo molto volentieri a Roberto la parola per proseguire questa presentazione, portandola poi nel vivo dell'opera. Grazie, intanto ringrazio tutti. Mi sentite? Sì, penso di sì. La carrellata di Sornovelli è stata oltre che interessante, propedeutica evidentemente al contenuto del libro, perché finalmente parliamo del libro a questo punto. Intanto parterei dall'esperienza del libro, perché in fondo è stato un tipo di esperienza che ha coinvolto più persone, che ha permesso di intanto rimettere in ordine un patrimonio di manifesti che già c'era, ma che attraverso questo tipo di operazione e le ricerche collaterali che sono state fatte si è implementato di tantissime altre donazioni. Questo ha permesso che l'idea del libro iniziale crescesse, perché poi alla fine abbiamo messo dentro più di 200 manifesti nel catalogo, ma altrettanti validi sono rimasti fuori e più ce ne sono tanti altri, fino ad arrivare quasi a un 700 manifesti. Questo tipo di operazione è servita a me, che non sono né un esperto della materia e quindi sono semplicemente uno che intanto ha fatto il 68, quindi direttamente interessato, che nel 68 ha sperimentato la possibilità di produrre il manifesto, perché ho lavorato molto con la serigrafia durante quegli anni e che poi per il corso della sua vita ha sempre fatto il progettista grafico, quindi quello a cui viene di solito deputata, commissionata la realizzazione di questo prodotto. Questo prodotto che, come giustamente ha fatto notare Novelli, ha subito nella sua storia, non parliamo di quella delle sue origini, ma soprattutto quella che ci riguarda forse un po' più da vicino, quella del dopoguerra, ha subito tante modifiche. Ha subito tante modifiche sia nel suo essere strumento, quindi di una forma di comunicazione molto particolare esposta al pubblico, la parola manifesto è comunemente utilizzata anche per esprimere, è una cosa manifesta, anche nelle altre lingue, il poster degli inglesi è postato, messo sul muro, la fish viene affisso, quindi è un qualcosa di pubblico dominio, quindi diciamo un sistema di comunicazione, fino a che poi non viene superato da altri sistemi, però di grande impatto, quello che può raggiungere più persone, facilmente più persone, perché si sottopone agli occhi di tutti. Queste modifiche che avvengono negli anni del dopoguerra e porteranno poi, come Novelli ha fatto giustamente notare, alla sparizione del manifesto, ormai i manifesti non li fa più nessuno, esistono ancora bravi progettisti grafici che dedicano magari parte della loro attività alla produzione di manifesti che sono più dei manifesti diciamo da interno, da collezione chiamiamole, in cui vengono maggiormente esplicitate quelle che possono essere le ricerche stilistiche d'avanguardia, ma che restano poi confinati in un ambito molto ristretto. Il manifesto, invece, che abbiamo preso in esame noi, è un manifesto pre-internet, ovviamente, e che ha il suo punto di riferimento in quel ventennio, diciamo, a partire dal 60, per arrivare poi fino agli 80, che ha caratterizzato dal punto di vista politico la situazione, in particolare in Italia, attraverso quelle lotte intanto di contrapposizione anche tra giovani e vecchi, in qualche modo, di una nuova forma di pensiero che partiva soprattutto dalle giovani generazioni, da una parte, e dall'altra il fatto che si sono messe in gioco tutta una serie di categorie sociali, operai, le donne, le minoranze, tutta una serie, diciamo, di realtà sociali che hanno finalmente in qualche modo trovato la propria voce, hanno potuto far sentire la propria voce. Il manifesto ha un grande ruolo, lo strumento manifesto ha un grande ruolo all'interno di questo processo e, in particolare, la cesura principale che può interessare questa nostra indagine è quella del maggio 68. Il maggio 68, estremamente mitizzato, durato poi sostanzialmente un mese, al suo interno produce, diciamo, dal punto di vista teorico, ma anche pratico, produce tutta una serie di atteggiamenti e di modi di vedere la politica completamente e radicalmente diversi, questo breve periodo diventa seminale in Italia, poi dico, durerà praticamente 15 anni, per dire. E quindi, evidentemente, è in quel nodo lì che si trova il punto di rottura tra un modo diverso, un modo precedente di intendere la comunicazione politica e un modo diverso che viene proposto attraverso, diciamo, la collettività del movimento studentesco, in particolare del 68 Parigino. All'interno di quell'evento, in particolare per quello che riguarda noi e soprattutto per quello che riguarda i miei interessi personali dedicati principalmente alla comunicazione visiva, c'è la grande esperienza dell'atelier populaire. Alla fine cosa sono? Sono studenti dell'Accademia, dell'Accademia di Belle Arti, che occupano, come tantissimi altri studenti, occupano la loro facoltà e all'interno di questa costruiscono, diciamo, questa grande esperienza di un collettivo anonimo di persone che lavorano tutte ad un unico scopo e che produrrà poi nel corso di questo mese qualche migliaio, diciamo, di soggetti di vari manifesti improntati alla comunicazione politica del movimento. Nasce in qualche modo uno stile, anche Novelli prima lo ricordavano, da lì poi si potranno derivare e riconoscere tantissime altre forme visive, soprattutto per quello che riguarda l'Italia, dal momento che all'interno dell'archivio il materiale preponderante è quello italiano, anche se poi ci sono manifesti che riguardano altri paesi e altre visioni, diciamo, politiche, come, non so, ci sono manifesti cubani, ci sono manifesti cileni, c'è un po' di tutto, però, diciamo, il grosso è la produzione dei manifesti in Italia. Quindi il 68 parigino e l'esperienza dell'atelier populaire sono il punto di partenza di questa analisi che poi mi ha portato a evidenziare alcuni soggetti. Tra le altre cose, un piccolo inciso, ma le biblioteche nazionali francesi mettono a disposizione sul loro sito la riproduzione di tutti i manifesti, gratuitamente ovviamente, la riproduzione di tutti i manifesti e di molti documenti che riguardano proprio l'esperienza del maggio parigino. Quindi lì uno si può andare a rivedere, a ritrovare tutti i riferimenti anche visivi, perché poi io di questo principalmente mi sono occupato. Di questo che però ovviamente, visto che poi le cose che si vedono nascono all'interno di processi forse più complessi, anche questo modo di vedere la produzione, che coinvolge in una dimensione come, in qualche modo, coautoriale, come se fosse una comunità di autori, dove il committente spesso è lo stesso che produce. Questo succedeva, ovviamente, come succedeva nel 68, diciamo, italiano, che il problema era dobbiamo comunicare una cosa e lo decidiamo noi dieci. Poi chi è che sa fare il manifesto? Ecco, loro due fanno il manifesto, e immediatamente la parte, diciamo, tecnica viene realizzata all'interno di un processo collettivo. Quindi la collettivizzazione di questo processo, la non parcellizzazione. Diciamo che una mia valutazione personale su questo periodo è che tra il 68 e il 70 c'è stato un momento di grandissima creatività sul piano dell'espressività, sul piano, diciamo, dei contenuti, sul piano dei linguaggi che chiaramente si cominciano ad intrecciare. Diciamo che anche un certo tipo di analisi della società, che all'epoca magari veniva un pochino snobbata da parte dei marxisti ortodossi, che dicevano, no, queste sono in fondo delle provocazioni, ma una visione, diciamo, debordiana, alla debord della società, dello spettacolo, già faceva intuire come si sarebbero potute modificare le forme di comunicazione del futuro. Tant'è vero che poi per un lungo periodo il manifesto diventa in qualche modo anche uno strumento un po' di nicchia, a partire dalla metà degli anni 70, quando cominciano altre forme di comunicazione più potenti. Da una parte la televisione e prima di questa, ovviamente, il fenomeno delle radio libere che io poi cito nel libro proprio perché, secondo me, è anche un segnale di come si modifica la capacità di comunicazione. A un certo punto diventa importante fare sentire la voce direttamente, il colloquiare, avere il botta e risposta, che era una cosa che ovviamente, nella situazione, diciamo, economico, politica, sociale di quegli anni, non era possibile. Uno la radio l'accendeva, si beccava quello che usciva dalla radio, punto e basta. Se voleva dire la sua non c'era modo, doveva scrivere le lettere al direttore dove qualche impiegato della RAI avrebbe preso e cestinato per l'ennesima volta. Le radio libere aprono invece un canale a doppio senso. Qualcuno chiede, qualcuno risponde, qualcuno litiga anche, qualcuno provoca. Quindi c'è questa modificazione. Ma per tornare a quel discorso che dicevo prima, dei periodi, fino al 70 più o meno c'è una grande produzione creativa. Di lì in poi non è che non ci sia più la creatività, ma c'è una sorta di ritorno all'ordine. Credo che principalmente il fatto che i gruppi che hanno fatto in qualche modo il 68, le quelli che potevano essere considerate le avanguardie dell'epoca, tendono a strutturarsi in delle forme che possiamo definire partitiche, tra virgolette, i cosiddetti gruppi extraparlamentari, che poi uno per l'altro, in maniera più o meno evidente, hanno delle strutture gerarchiche e quindi riproducono nuovamente quel controllo sull'immagine che in fondo, come Novelli faceva notare, era una caratteristica strutturale dei grandi partiti dell'Italia post bellica. Quindi forse intervengono anche delle forme di censura, se vogliamo, per cui determinate immagini, determinate provocazioni non hanno più spazio. Chiaramente ci sarà anche un periodo in cui il confronto si farà talmente duro che sarà anche difficile la battaglia dei manifesti. Tant'è vero che credo che sul finire già negli anni 70 la comunicazione alternativa, chiamiamola così, alle comunicazioni istituzionali del sistema, si modifica radicalmente. Le esperienze soprattutto quelle del 77 bolognese, appunto della Radio Alice, delle riviste tipo Atraverso, di Bifo, queste esperienze che in fondo poi riprendono quel discorso dell'origine che dicevo, critica della società dello spettacolo, andare a smontare quelli che sono i meccanismi che fanno della comunicazione uno degli strumenti di potere più forti dell'egemonia capitalista. In quella dimensione lì chiaramente si modificano le cose. Gli anni 80 poi saranno la tomba, il tombale di tutto ciò, attraverso un dominio della televisione, scenderà in campo il Cavaliere con le sue televisioni galoppante, piano piano, e poi dimostrando poi alla fine che i canali di comunicazione sono quelli che poi permettono di garantirsi e avere il potere. Questo diciamo un po' il discorso generale su quello che è una mia visione di questo per concludere il percorso di Novelli di prima, per portarlo alle estreme conseguenze. E poi ci sono i prodotti, poi ci sono i manifesti, quelli che sono contenuti, adesso poi ne vedremo anche qualcuno. I manifesti intanto dobbiamo pensare, un pochino Francesca prima l'aveva accennato, dobbiamo pensare alle condizioni in cui questi manifesti sono stati tenuti. Nella mostra che abbiamo fatto nel 2017 c'era una, forse anche un po' ironica, barra supponente, frasi che diceva dalla cantina alla storia, praticamente era lo svuotamento di cantine sostanzialmente, molto spesso la motivazione, magari ultima, non principale, ma ultima era ma adesso sposto quella roba lì, quel pacco di volantini che rappresentano il mio passato, pur non rinnegandolo, e ci metto le bottiglie di vino, così in cantina c'è uno spazio in più uno. Quindi io penso che molte di queste donazioni fossero anche motivate, non così forse banalmente dallo spazio, ma dalla necessità di dare una collocazione ad un qualcosa che sicuramente fino ai nostri anni non è finita nel cassonetto, perlomeno, quindi sicuramente qualche motivo per essere trattenuta c'era. Quindi la condizione dei materiali, il fatto che abbiamo partecipato a un bando che ci ha permesso di dedicare del tempo persone, Alice Daldis, che non l'abbiamo citata, ma è quella che si è in qualche modo smazzata tutta la questione di misurare, riempire, definire le tecniche, che sono tante, molteplici, una su tutta la serigrafia, perché era quella principe, era quella che veniva più facilmente utilizzata. E poi ognuno di questi manifesti, al di là della sua conservazione, ha dietro anche un portato di contenuti alle volte veramente interessante. Magari adesso vediamo qualche manifesto, vediamo un po' se c'è qualcosa che può essere... Adesso poi condivido quando trovo. Beh, quello di Palazzo Campana l'abbiamo già visto. Io farei vedere questo, principalmente perché è un manifesto che appare poi sulla copertina del nostro libro. Non so se si vede, adesso condivido. Condivido. Ecco, vietato il calpestare le idee. Si vede? Ci siamo? Ecco, questo è, secondo me, uno dei manifesti più belli, interessanti e che concentra un po' i discorsi che abbiamo fatto. Da una parte, ovviamente, il debito con il maggio parigino. Quindi è un'immagine che stilisticamente è improntata, diciamo, a questo segno grafico primario, un po' per necessità. La stampa serigrafica è una stampa che avviene attraverso dei telai dove certe parti vengono, in qualche modo, protette, altre parti rimangono permeabili al passaggio dell'inchiostro. Quindi non ci sono grandi, ora, la serigrafia industriale, come tutti sappiamo, poi raggiunge dei livelli molto alti, ma la serigrafia che si utilizzava allora, spesso e volentieri in casa o in qualche studio di qualcuno che disponeva magari di un po' più di spazio, era fatta con materiali molto, ma molto semplici, un telaio spesso di legno, assemblato dal falegname, la preziosissima tela di nylon che serviva poi per fare, diciamo, l'intelaiatura e la base su cui puoi appoggiare il materiale sensibile e poi un originale che spesso era disegnato su carta da lucido sommariamente e poi veniva ripreso con del coprente, col pennello, per oscurare determinate zone. Quindi questo è un manifesto, evidentemente, in serigrafia, è un manifesto che viene progettato da due studenti della Cattolica, Gianni Derrio e Gian Mario Missaglia, in quella che è una delle prime occupazioni, mi pare del 67, del 68, dell'inizio del 68, una delle prime occupazioni universitarie a Milano. E' un manifesto poi che ha un suo impatto, a mio parere, notevole, questo enorme piedone che diventa poi il protagonista, in qualche modo, di questo gesto. E' anche il primo manifesto che, in qualche modo, presenta, diciamo, la violenza della repressione nei confronti del movimento stesso. Il protagonista, alla fine, è un carabiniere col manganello in mano, quindi una forza repressiva. Questo carabiniere poi, però, alla fine, è un po' un pupazzo collodiano, sembra un po' uscito da Pinocchio. La lucerna è in testa, evidentemente i carabinieri non operavano in quella maniera all'epoca, avevano già i loro bravi elmetti. E quindi qui c'è anche una dimensione che è un po' quella favolistica, se vogliamo. Quindi lo rende anche, in qualche modo, un atto poetico, non solo di comunicazione. Poi c'è questo gioco del vietato calpestare le idee, che riporta poi anche ad una dimensione proprio umana. Noi esprimiamo delle idee, qualcuno ce le calpesta. Quindi evidentemente c'è questo tipo di comunicazione all'interno di questo. Poi possiamo vederne altri. Ecco, questo dobbiamo vederlo, perché... Vedete? Questo è un altro tipo di manifesto. Intanto è un manifesto che appare più avanti. Si vede sempre lo stesso, Roberto. Ok, devo allora uscire e rientrare. Sì, Roberto... Esco e rientro. Interrompi condivisione. Ecco, e ricondivido adesso. Ok. Ecco. Adesso a posto col Crepax. Questo è anche un manifesto particolare, ricordato, visto, forse anche riprodotto su altri cataloghi sicuramente, anche perché disegnato da un grande disegnatore italiano, che è Guido Crepax, che all'epoca era già famoso, non era un perfetto sconosciuto. Era già famoso soprattutto per i suoi comics, per i suoi fumetti, pubblicati sulla rivista Linus, che era un'animista che non mancava mai nelle case dei Sessantottini, per cui era un autore sicuramente conosciuto per le sue... anche le sue vinti donne, come Valentina, che poi era ritratto della sua compagna. Questo è un manifesto particolarmente efficace, anche perché è evidentemente studiato. C'è una mano... diciamo, l'aspetto autoriale è un aspetto prevalente. Nello stesso tempo ci sono alcuni aspetti diciamo gestaltici, di percezione della cosa, che lo mettono come un esempio di manifesto appunto studiato. Il proletario in rosso, l'albero che viene abbattuto con le tre scimmiette, il militare, il magistrato, il padrone, che sono le tre scimmiette che non sentono, non vedono e non parlano sul ramo dell'albero. L'iconografia è ben definita, la grafica è quella di una X, formata da l'albero nero e il corpo rosso, e lo slogan è molto sintetico, basta con il silenzio di stato. Questo è uno, credo, degli esempi di manifesti più graficamente risolti di tutta questa nostra raccolta. Vi faccio vedere qualcosa d'altro. Rompiamo la condivisione. Roberto? Dimmi, ti senti? Forse metterli di seguito uno all'altro, perché il tempo... Non ce li ho di seguito, perché li ho presi, ho preso le pagine al volo dal libro. Non ho fatto un classico PowerPoint, ma adesso ricondivido qua. Perché è tardi. Siamo fuori? Beh, breve questa cosa. Ecco, questo è un altro manifesto che a me piace molto per tutta una serie di motivi che forse sono motivi spesso personali, come spesso accade in questo caso, quando uno lavora con la materia con cui ha avuto a che fare, soprattutto in gioventù, poi emergono degli aspetti personali. Però questo intanto è un manifesto particolare perché va un po' al di fuori di quello che abbiamo detto. Non è tanto la voce della strada. Questo manifesto era un manifesto per arredare le case. Era presente in tantissime case dei compagni dell'epoca, che era pubblicato nel soccorso che era un'organizzazione che cercava di provvedere, di sostenere l'appoggio legale ai detenuti per ragioni politiche, poi non solo, e quindi serviva per recuperare fondi a questo scopo. E qui c'è una vecchia fotografia nel 1905, che rappresenta l'arresto di questo signore che viene definito qua, non so con quanta pertinenza, comunque anarco-sindacalista, che viene trattenuto dai due gendarmi alle spalle. Questa grande risata e questo personaggio che poi io nel testo che ho messo a commento sul libro, che poi voi ovviamente avete modo di leggere più dettagliatamente, questo personaggio avanza con la sua camicia bianca, richiama in fondo l'iconografia classica del proletario, che con la sua sicurezza viene avanti, un po' come nel terzo stato di Pellizza da Volpedo, e quindi c'è questa dimensione eroica, se vogliamo. Nello stesso tempo, sotto lo slogan, recita, sarà una risata che vi seppellirà. Anche questa, una frase attribuita, perché poi io ho fatto anche delle ricerche, che non sono riuscito a trovare se su qualche libro magari la Paola ne sa qualcosa di più, ma viene attribuita a Bakunin, quindi al grande teorico anarchico Bakunin. Quindi questo abbinamento tra, in fondo, una figura di stampo eroico, dove l'arma principale è una risata, fa di questo manifesto un esempio classico di quelle che potevano essere, soprattutto negli anni settanta, il pensiero alternativo all'interno anche di un movimento ben più complesso. io, detto questo, credo che gli altri manifesti, chi poi assisterà a questa nostra presentazione, avrà modo di vederlo sul libro e devo lasciare la parola, credo, a qualcuno. Paola, tu vuoi dire qualcosa? o anche Laura che forse ha qualcosa sul merito? Sì, io volevo solo tornare un attimo e poi sono brevissima, tornare un attimo al libro e tornare, nel senso che ne abbiamo parlato, insomma, però parlare un attimo di come è stato costruito questo libro, anche perché vorrei farvelo vedere, è questo, la copertina è ovviamente quella di cui parlava Roberto, è un libro frutto del lavoro collettivo in cui non solo c'è una grossa e diciamo esaustiva galleria di manifesti di tutti gli anni, dagli anni 60 in poi, di cui appunto ha parlato Roberto, ma ci sono anche interviste ai donatori dei manifesti stessi e donatrici, fatte da Virginia Niri, questo proprio per legare ancora di più la donazione di qualche cosa che ha un significato emotivo e affettivo, come può essere una raccolta di manifesti, che è più significativa di cui abbiamo visto, è più, è più, qualcosa di più intimo rispetto, no, a volantini, riviste, giornali, anche libri. molte volte i donatori tengono i manifesti fino all'ultimo perché l'immagine risuona, come dice poi Ferruccio Giromini che è un altro degli interventi che c'è sul libro, risuona, come dire, nelle proprie viscere in queste antiche immagini hanno lasciato un segno emozionale più forte di tante parole, di tanti discorsi, fatti, stampati, eccetera. Quindi ci sono queste interviste raccolte da Virginia per restituire almeno in parte questo legame emotivo, questo portato emotivo dei manifesti per i donatori e le donatrici. E poi, volevo dire che scorrendo i manifesti si vedono anche le differenze tra di loro, le differenze tra, per esempio, i manifesti dei gruppi femministi o femminili, femministi, diciamo, in cui si fa uso della poesia. Ci sono parecchie poesie, la poesia per le donne incarcerate nel 1900, un episodio che c'è di lotta, insomma, diciamo che c'è stato nel 78, oppure per Giorgiana Masi, l'uso della poesia che ha più, che ha molto a che fare con l'attività politica di chi ha prodotto questi manifesti. Quindi l'oralità nei gruppi femministi, ben si sa, no? L'oralità prevaleva e la poesia in qualche maniera è un portato anche di questa comunicazione orale. Lascio quindi la parola a qualcun altro che vuole intervenire. Non voglio rubare la parola a nessuno, penso che insomma sia il mio turno di fare la mia presentazione. Allora, io innanzitutto parto ringraziando i relatori che mi hanno preceduto e ringraziando per l'opportunità che abbiamo avuto di, diciamo, dare il nostro contributo come biblioteca. Allora, stavo cercando di... Vedete la presentazione? Sì. Perfetto, benissimo. Dunque, dicevo, l'occasione appunto della pubblicazione di questo libro e tutto il discorso che si fa intorno ai manifesti ovviamente dà la possibilità a noi della Biblioteca Universitaria di Genova di, tra virgolette, ospitare un po' l'evento e anche parlare del nostro piccolo fondo di manifesti perché abbiamo un fondo di manifesti che copre diciamo dagli anni settanta agli anni novanta che recentemente è stato un po' diciamo riordinato e messo disponibile per il pubblico. Vedete appunto uno dei nostri manifesti di ambito culturale proprio in copertina. Perché ne parlo io che non sono un bibliotecario ma sono un funzionario restauratore perché praticamente mi sono occupata con la mia collega dell'ufficio tutela Bianca Bellezza di riordinare pulire ricondizionare sistemare rendere fruibile questo patrimonio a seguito del magari ne avrete sentito parlare del trasferimento dei nostri fondi dalla vecchia sede di via Balbi di via Balbi 3 nel palazzo dell'università all'attuale sede di via Balbi 40 nell'ex hotel Colombia. In questo grande lavoro di trasloco che è stato fatto diciamo si è concluso dicembre 2019 abbiamo trasferito decine di migliaia di unità tra cui questi 974 manifesti che sono arrivati organizzati in cartelle come le vedete schierate su questo tavolone un po' cartelle ovviamente di cartone normalissimo non adatto alla conservazione erano abbastanza in buone condizioni ma avevano bisogno di un lavoro di pulitura e soprattutto erano estremamente disordinati. grazie al cielo un nostro collega ora andato in pensione Marco Marconcini aveva conservato le schede di catalogo cartacee di questi manifesti che erano state redatte in biblioteca a partire dall'82 i manifesti coprono un periodo come vi dicevo di circa una ventina d'anni dal 77 al 98 e sono di diverse categorie che cosa abbiamo fatto io e la mia collega appunto li abbiamo visti uno per uno controllato se c'erano eventuali mancanze quindi guardato le schede di catalogo e confrontato con quello che ci trovavamo di fronte riorganizzato i manifesti in categorie e ridivisi in cartelle fatto le cartelle conservative spolverati quindi insomma resi veramente fruibili per il pubblico e abbiamo anche riportato tutti i dati delle schede di catalogo cartacee in più agevoli ovviamente file excel pdf consultabili ricercabili tramite diciamo cr a che categorie possiamo far attribuire questa collezione di più di 900 manifesti innanzitutto abbiamo molti manifesti politici manifesti di associazioni le più varie associazioni di lavoratori associazioni di imprenditori associazioni appunto anche femminili ce n'è di ogni abbiamo manifesti che testimoniano tutta l'attività culturale del mondo della città di Genova in generale anche della Liguria di questo periodo storico che abbiamo detto abbiamo diversi manifesti di ambito ferroviario perché abbiamo delle copie di orari delle stazioni questi manifesti probabilmente sono arrivati in biblioteca per una una specie di diritto di deposito legale diritto di stampa e abbiamo poi manifesti di varie altra categoria che non potevano essere fatti ricondurre alle precedenti lo stato di conservazione complessivo di questi manifesti è molto buono alcuni hanno ovviamente magari piccoli strappi mancanze lacerazioni ma poche cose nel complesso sono molto ben conservati anche dal punto di vista proprio della qualità della stampa e dei colori perché perché le copie di questi manifesti che arrivavano in biblioteca non erano quelle ovviamente che dovevano essere esposte in giro ma erano copie diciamo di deposito che erano proprio destinate ad essere conservate presso di noi e quindi si sono mantenute bene perché sono state insomma al sicuro nelle loro cartelle per tutti questi anni come vi ho detto al gennaio 2020 abbiamo fatto questo grosso intervento con la mia collega questi manifesti sono pubblicizzati sul sito della biblioteca universitaria sotto la voce cataloghi uno va a cercare fondi antichi e speciali materiali speciali e arriva alla pagina dedicata ai nostri manifesti c'è una breve descrizione e soprattutto si può ricercare per ogni categoria di manifesti che noi conserviamo l'elenco molto dettagliato che noi abbiamo proprio ricalcato dalle schede di catalogo cartacee che avevamo l'elenco che comprende tutti i manifesti di quella specifica categoria noi non abbiamo inventato con la mia collega e non abbiamo diciamo diviso noi in categorie ma erano già divise dalle schede di catalogo questi manifesti e tra l'altro è anche diciamo interessante il fatto che la collocazione la segnatura possiamo così chiamarla dei manifesti che noi conserviamo è molto ordinata e razionale cioè riporta ridivide ogni singolo manifesto che noi possediamo dall'anno per esempio se noi leggiamo che questo manifesto che ha questo numero di ingresso ha la collocazione M77P.6 vuol dire che un manifesto del 1977 appartiene alla categoria dei manifesti di argomento politico quindi la sua lettera di appartenenza è la P ed è il sesto di quell'anno nella cartella però insomma è un sistema molto ordinato e razionale di ricerca e appunto come vi dicevo ognuno di questi elenchi di svariate svariate pagine è ricercabile tranquillamente non è che uno deve mettersi a scorrere tutto per trovare qualcosa che gli interessa partiamo ora a descrivere brevemente il fondo come vi dicevo abbiamo la stragrande maggioranza dei manifesti e ovviamente di argomento politico sono 584 su più di 900 quindi insomma la maggior parte dagli anni del 77 all'87 molti manifesti sono redatti da cellule locali del partito comunista e dalla DC e tra l'altro è molto interessante perché spesso le cellule di questi due partiti della stessa zona si creavano manifesti per controbattere a specifiche tematiche magari uno faceva un manifesto su una certa cosa il partito creava il manifesto un mese dopo per ribattere sullo stesso e ci sono diversi casi è anche interessante fare uno studio appunto su questi materiali ovviamente non mancano manifesti di tipo politico che invitano a incontri di discussione su temi molto importanti per la storia della nostra società infatti sono interessanti questi documenti anche per insomma gli studi storici e sociologici e ce ne sono alcuni di cui uno che è tra i miei preferiti che ho messo qui quello del ragno che sono specifici ce ne abbiamo diversi sui temi della denuncia verso i Gulag soprattutto negli anni caldi 78-80 questo veramente lo trovo anche graficamente molto interessante non mi sono dimenticata di dire una cosa anche importante che questi elenchi riportano anche per quello che abbiamo potuto fare in questa fase che è una fase iniziale anche di studio su questo fondo riportano anche il tipografo che ha stampato non la tecnica perché non abbiamo avuto il tempo di esaminare così approfonditamente tutto però è già interessante anche per lo studio delle magari delle tipografie attive a Genova in Liguria in questo periodo insomma veramente un fondo che dà tantissime possibilità per proseguire questo è un altro esempio appunto di un manifesto politico che conserviamo la maggior parte sono di grande formato vanno dal minimo 70-100 80-120 ce ne sono veramente di molto grandi però abbiamo anche qualche piccolo volantino o manifesti più piccoli magari tipo formato A3 o cose del genere come questo ad esempio abbiamo poi come vi dicevo manifesti di associazioni una piccola parte sono 140 veramente le più svariate molto spesso sono sindacati anche uniti tra loro che invitano ad una discussione su temi appunto di veramente di svariati di svariati generi abbiamo tantissimi manifesti dell'AMPI per le feste sociali questa è una cosa secondo me molto molto carina e poi come vi dicevo manifesti associazionistici veramente di diverse di diverse categorie tra cui uno mi ricordo per la promozione della vita non violenta un'associazione di Genova che invitava ad uno stile di vita pacifista altri manifesti di queste associazioni appunto per scioperi poi c'è questo molto bello sull'occupazione femminile appunto una delle categorie che vi dicevo prima del 1981 grande diciamo anche interesse hanno questi manifesti legati alle attività culturali della città soprattutto ovviamente legati a Genova sono 90 non sono moltissimi però sono veramente interessanti sono testimonianze di mostre di spettacoli teatrali di presentazioni varie e quindi questo è insomma è anche una parte importante della storia sociale della città e c'era anche un nucleo di manifesti li vedete qui solo perché ne parlo adesso poi vi faccio vedere anche gli altri prima in occasione del terremoto che c'era stato in Campania avevano fatto una serie di manifesti per la raccolta di fondi alimenti indumenti eccetera eccetera e questa è anche una cosa secondo me interessante faccio vedere solo brevemente il manifesto che ho saltato prima questa è una mostra di giovani architetti americani del 79 poi c'era questa bellissima mostra fotografica di Remigio Zena sulla sulla Genova che fu diciamo come vi dicevo brevemente abbiamo anche questi manifesti con orari di stazioni ferroviarie sono 86 1978 79 80 81 solo questi quattro anni ci sono non solo le stazioni di Genova rappresentate ma anche molte stazioni diciamo del territorio Ligure in generale e anche di Novi Ligure perché Novi Ligure pur essendo in Piemonte fa parte giuridicamente del comparto della regione Liguria è gestita la stazione dal comparto della regione Liguria sono questi soprattutto manifesti molto molto grandi anche superano l'ottanta per cento venti quindi sono molto impegnativi però possono essere interessanti magari anche per studi sui trasporti ferroviari della regione insomma cose del genere e poi entriamo nella grande categoria dei manifesti vari chi ci ha preceduto e ha diviso diciamo in categorie i manifesti che abbiamo a un certo punto evidentemente ha creato questa categoria vari perché si trovava di fronte ad un gruppo veramente molto 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 eterogeneo di manifesti che non potevano essere inseriti nei gruppi precedenti sono una piccola parte sono 74 e troviamo di tutto dalle pubblicità alla pubblicità proprio anche di prodotti c'erano anche pubblicità di detersivi eccetera eccetera a pubblicità di spettacoli di gruppi specifici come i trilli che vedete qui ne abbiamo due mi pare dei trilli ma anche scusate ma anche magari manifesti per promuovere tematiche sociali molto importanti io insomma sinceramente come donna sono molto legata ai manifesti che promuovono anche l'istituzione dei consultori eccetera eccetera e quindi anche questi sono veramente un bel patrimonio per testimoniare lo sviluppo della insomma della società civile a Genova e in Liguria in generale e quindi niente io concludo anche perché i tempi sono un po' un po' tiranni e ringrazio nuovamente per insomma per aver dato la possibilità di presentare anche questo lavoro che è solo all'inizio però testimonia ecco il nostro il nostro piccolo contributo nel mondo dello studio del manifesto che speriamo si possa proseguire in futuro con buoni frutti grazie ringrazio anch'io Laura della Piana perché attesta un impegno anche da parte nostra su questo strumento che diventa a sua volta oggetto di studio di ricerca e mi piace molto prima di lasciare la parola ancora molto volentieri a Paola De Ferrari Francesca Dagnino mi piace innanzitutto ringraziare Roberto Rossini ed Edoardo Novelli e Laura della Piana per i contributi e lascio per parte della biblioteca salutando quindi voi tutti e lasciando la parola poi ancora alle rappresentanti dell'associazione semplicemente una cosa che mi è molto piaciuta anche se è una frase un titolo ma è molto significativa che scrive Paola De Ferrari nell'introduzione i manifesti per chi li intende dicono tutto dicono quello che c'è scritto e anche attraverso i contributi che abbiamo avuto oggi dicono anche quello che non c'è scritto perché c'è il contesto io per questo ringrazio chiunque sia intervenuto oggi col proprio contributo per far capire per lasciare una traccia del mondo che c'è intorno a un manifesto quindi io vi ringrazio come biblioteca di aver preso parte di aver animato questo dialogo questo confronto e questo colloquio e lascio molto volentieri a Francesca a Paola un saluto di questa chiusura beh la conclusione la lascio a Francesca io volevo solo dire che ringrazio anch'io tutti e tutte e volevo solo dire dove si trova il libro perché libri bisogna comprarli per leggerli e quindi mi hai preceduto nell'appello e vabbè vedi sono un ex libraia quindi si trova a Genova l'amico ritrovato e al falso Demetrio due librerie del centro storico e si trova chiedendolo alla nostra mail ve lo spediamo per posta che è archivio movimenti chiocciola archivio movimenti punto org ve lo spediamo con le mezzi della della posta delle poste italiane quindi sono con comodo con calma ma i libri sono tutti arrivati ne abbiamo venduti già tantissimi e grazie a tutti grazie a tutte io non non devo dire altro che volevo fare questo appello che mi ha preceduto Paolo ed ha fatto benissimo abbiamo questa questione del lockdown del covid eccetera ci ha poi come dire obbligato a trovare degli altri mezzi per la diffusione del libro non abbiamo fatto una vera presentazione come oggi in un luogo pubblico però abbiamo il modo in cui è stato pubblicizzato cioè attraverso dei giornali delle recensioni molto allogiative devo dire del manifesto della Repubblica del Robinson eccetera ci ha esposto a un pubblico molto più ampio del nostro solito pubblico genovese per cui abbiamo ricevuto richieste da Bologna da da Cagliari da Milano Torino insomma le più svariate città d'Italia quindi ci siamo fatti oltre che editori editrici ci siamo fatti anche spedizionieri che abbiamo diffuso abbiamo fatto non possiamo siamo una piccola organizzazione non abbiamo un distributore ma l'abbiamo distribuito con mezzi molto rudimentali come la posta ecco rispetto a questo incontro voglio ringrazierci ringraziare di nuovo tutti non mi sto a perdere nei nomi eccetera tutti quanti e vorrei che con Edoardo Novelli si potesse cominciare un non so un dialogo intanto aprirgli il nostro nostro archivio perché è un archivio ricco e lui è interessato forse un periodo un po' precedente ma insomma abbiamo anche delle cose degli anni sessanta primi anni sessanta e poi con la biblioteca perché insomma sono molto contenta che abbiamo trovato questa occasione di presentazione del nostro libro nel vostro spazio virtuale ma nel vostro spazio e io mi auguro che anche nel futuro si possano fare cose di questo genere si possano fare mostre se le condizioni della della biblioteca lo consentiranno insomma una collaborazione con una istituzione prestigiosa come la biblioteca universitaria a noi interessa molto e fa molto piacere e quindi un grazie di cuore davvero chiudiamo no? Per quanto mi riguarda grazie a voi accetto sicuramente l'invito a attingere a guardare a approfittare della vostra della vostra raccolta non mi interessano solo quelli di questi anni degli anni precedenti quindi sicuramente vi disturberò e spero di coinvolgervi e spero che ci siano occasioni in attesa di una seconda di una seconda edizione di un nuovo volume per l'estensione della collezione per parte nostra per parte della biblioteca universitaria di Genova naturalmente tutta la disponibilità a ospitare ancora eventi culturali e manifestazioni culturali mostre sia in presenza che in modalità virtuale è vero che manca salta la dimensione della relazione individuale attraverso la fisicità nel momento in cui siamo costretti a essere lontani proviamo a giocare dal punto di vista di cogliere gli aspetti invece positivi di una maggior diffusione possibile attraverso le modalità virtuali di questi eventi quindi ancora un saluto a voi un ringraziamento e con questo chiudo questa registrazione grazie